La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Amici di Insieme a Canestro, buonasera e benvenuti alla diciannovesima puntata della nostra trasmissione, giunta ormai alla quarta stagione. Oggi abbiamo due ospiti veramente importanti, ma prima di presentarveli, come sempre, vi ricordo come potete seguirci perché avete varie opportunità. Intanto il canale 80 di Rossini TV, visibile in tutta la regione Marche, oppure la pagina Facebook, che potete seguire in teoria ovunque nel mondo, in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare e anche sul sito internet di Rossini TV. Grazie come sempre agli sponsor che sostengono la nostra trasmissione, quindi Conad Montecchio e Macchini ceramiche. E io questa sera sono veramente felice perché è tutto l'anno che lo aspetto, veramente è 20 anni che lo aspettavamo, ma in questo caso è tutto l'anno che aspettiamo di avere con noi, Andrea Cinciarini, playmaker della Carpegna Prosciutto. Ciao Vetta, buonasera a tutti. Ciao, benvenuto Andrea. Grazie a te. E l'altro ospite che abbiamo corteggiato anche lui per tutta la stagione, perché secondo noi è una voce storica della VL, magari i ragazzi più giovani non lo conoscono molto, ma i tifosi di vecchia data sì e quindi stasera chi non lo conosce avrà la possibilità di sapere chi è Luciano Murgia, giornalista e ora direi scrittore. Grazie, è troppo buona. Poi parleremo anche di questo aspetto della tua nuova vita. Intanto passo la parola a Giovanni Zida, anche stasera sarà lui a indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre le domande e anche per rispondere al contest che lanceremo fra poco, che riguarda Cincia e mette in palio due biglietti per la partita del 17 marzo contro la Virtus Bologna, a chi risponderà per primo. E a maggior ragione questi due biglietti sono preziosi, visto che il Palasport è sold out. Vai Giovanni. Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ospiti in studio. Siamo qui per la diciannovesima puntata di questa terza stagione. Buonasera a tutti i te e spettatori, come sempre a 370-366-7210. Vi ricordo anche la diretta Facebook di Rossini TV dove potete commentare e fare le domande ai nostri ospiti. Un contest di oggi che vede quindi questi due biglietti per la partita del 17 marzo alle ore 19 contro Bologna. L'8 gennaio 2023 Andrea Cinciarini è entrato nella storia del basket italiano. Vogliamo sapere con quanti assist ha superato il record di Pozzecco diventando il re della specialità. Allora, via, scatenatevi, su internet trovate questa notizia, quindi bisogna solo essere veloci. Gli assist, chiaramente intendiamo la cifra complessiva, non gli assist di quella partita dell'8 gennaio. Sapete bene che Andrea domina questa classifica, adesso ne ha aggiunti altri ovviamente dopo quella data, ma noi vogliamo sapere in quella sera con quanti assist superò Pozzecco. E adesso entriamo nel vivo di questa trasmissione e prima però di andare a parlare della partita di Trento vorrei Andrea che tu potessi dire cose che comunque magari hai già avuto modo di dire nelle interviste quando sei arrivato così, però ecco, questo ritorno a Pesaro, anche se poi le cose adesso non stanno andando come magari sognavamo, però cosa ha voluto dire per te e come ti sei sentito a rimettere questa maglia che non ne avevi più addosso da quando eri un ragazzino. Sì, sicuramente non è un momento facile, però nella vita ci sono anche questi momenti, nello sport pure. L'anno scorso non ho vissuto uno simile, è andata bene alla fine, però fino all'ultima giornata eravamo lì a ballare. Quest'anno quando è arrivata l'opportunità a Pesaro non pensavo di potermi ritrovare in questa situazione però giustamente poi le partite si devono giocare, si devono vincere. È iniziata benissimo a Pistoia, poi una filotto di sconfitte consecutive, una nuova vittoria con Brescia, di nuovo un tonfo a Trento. La prima parola quando ho firmato a Pesaro è orgoglio, orgoglioso di ritornare a vestire la maglia della mia città, orgoglioso di ritornare a vestire questi colori, a rappresentare la mia città. Ovvio, mi sarei aspettato altro sì, però in questo momento voglio vedere l'altra parte del bicchiere, cioè un pesaresi in campo che proverà a fare di tutto per cercare di salvare la squadra della sua città. Questo è fuori di dubbio, è il mio carattere, è quello che ho dimostrato in tutti i miei anni di carriera. Cerco sempre di dare il 100%, poi uno può giocare bene, può giocare male, ma di sicuro non sono uno che si tira indietro, non sono uno che non si prende responsabilità, non sono uno che molla. La famosa tigna pesarese dentro di me, purtroppo in campo non sempre si vede, però sono certo che lotteremo fino all'ultima giornata, si spera prima, ma non lo possiamo sapere, ma faremo di tutto per fare in modo che Pesaro resti in seria. Luciano, quando hai saputo che Andrea sarebbe potuto approdare a Pesaro, che cosa hai pensato, visto che comunque tu, come noi, l'hai visto crescere nel settore giovanile, affermarsi, poi spiccare il volo? Ho pensato che forse era troppo tardi per noi, doveva arrivare molto prima Andrea. Ho pensato anche che era l'elemento importante e prezioso per questa realtà, perché vedere giocatori che non sanno neanche dove sono, che non riescono a rendersi conto che qui si respira, che noi abbiamo una passione, che la città vive di pallacanestro. Io vedo Andrea, che non è soltanto una guida in campo, io vedo che parla con i compagni, con gli stranieri, vedo che è una sorta anche di mental coach e credo che sia una cosa preziosissima poter contare su un giocatore come Andrea, che è una guida tecnica, ma è soprattutto una guida morale. Io credo che sia una presenza di stimolo per tutti, oserei di dire anche per gli altri italiani, se mi permetti anche per un italiano in particolare, che vedo che fa delle cose fantastiche, poi improvvisamente si mette a giocare contro gli avversari, ma non giocando a basket, contro gli arbitri. Io credo che Totè dovrebbe seguire i consigli di Andrea, abbiamo bisogno di tutti per salvarci. Non è una partita individuale, non è un primo individuale, tutta la città merita questa salvezza, tutta la squadra merita, quindi tutti insieme, ascoltando i consigli di Andrea. Bene, andiamo un attimo a vedere allora le immagini da Trento, perché dopo la grande affermazione sulla capolista Brescia, tutti si aspettavano, se non un'altra vittoria, almeno una conferma che la svolta era ormai certificata in casa Vuel, invece è arrivata una sconfitta che è proprio per questo ancora più amara. Ecco, più che altro, Cincia, vogliamo capire, dopo un primo tempo, che comunque era stato un onesto primo tempo, non spettacolare come quello di Brescia, ma discreto, comunque eravate a ruota, meno tre, cosa è successo? Allora, prima cosa, un buon primo tempo, ma la chiave è stata proprio nel primo tempo. Noi eravamo avanti 11 a 20 e il parziale è stato 13 a 0, 24 a 20 per loro. Ecco, noi purtroppo facciamo fatica, quando arriva un break, a fermarlo. Abbiamo questa cosa che ci è capitata tante volte e la partita chiave della nostra stagione in questo momento è stata quella di Varese, perché se vincevi quella partita lì probabilmente stavamo parlando di altro. In casa con Varese, sarebbe stata la doppia vittoria che non è mai stata. Lì abbiamo preso una bella batosta tutti, sotto Natale, il palazzo era pieno, si faceva due vittorie consecutive. Detto questo, Trento nel terzo e quarto quarto, come è giusto che sia, ha alzato l'intensità, ha alzato la difesa e noi siamo andati a sbandare. Sbandare io intendo che ci siamo un po' rifugiati nell'uno contro tutti, abbiamo iniziato ad aprirci e non a compattarci e poi in difesa abbiamo fatto acqua da tutte le parti. Sicuramente subire 67 punti, terzo e quarto quarto non è una bella cosa. Io in primis, perché sono il playmaker titolare, mi prendo le responsabilità, ma tutti abbiamo fatto veramente male in quello che riguarda la difesa, perché poi tu ti puoi salvare in mille modi, però la difesa e la voglia di lottare non deve mai mancare. Purtroppo nel terzo e quarto quarto siamo tornati ai difetti di prima di Brescia. Io non penso che Brescia sia stata una rondine, non lo penso, però penso che quell'atteggiamento lì noi dobbiamo cercarlo di avere sempre. A Trento l'abbiamo avuto 20 minuti e non possiamo permetterci di giocare 20 minuti. Luciano, per la tua esperienza, tutti questi cambiamenti che sono successi, la VL, lo ricordiamo, ha inserito 4 giocatori a stagione in corso, sono tanti, e ha anche sostituito l'allenatore. Possono aver disorientato tecnicamente la squadra o forse è stato più complicato ricreare il gruppo umanamente, dopo ogni cambiamento? Credo che ci sia tutto di vero in quello che hai detto tu. La mia memoria mi racconta di squadre che cambiano al massimo due giocatori. Io ero fermo, sai, quando Valerio Bianchini diceva contro le porte girevoli, gli alberghi con le porte girevoli, vabbè, lui che poi ne faceva entrare e uscire. Però oggettivamente credo che non sia facile ricostruire. Io prevetto che non avrei mai preso Buscaglia, mai, mai, perché lui per tanti anni ha detto che non voleva venire a Pesaro. Io gli avrei detto grazie, ma chi sei tu per dire no a Pesaro, alla VL? Non l'avrei mai preso. Ho detto, questo, passare da Buscaglia a Sacchetti è veramente un salto... Filosofico. Ci vorrebbe un cagnotto di Biasi di antica memoria. Credo che non sia facile. Ecco per questo che ritengo importante la presenza di Andrea. La sua memoria, la sua conoscenza, la sua pesaresità. Per far capire, io non so se, non conosco gli americani adesso, non so se si informano quando arrivano qua, sanno dove arrivano. Dicono di sì quando vengono presentati, però poi bisogna vedere che cosa veramente saranno. Ho conosciuto stranieri che non sapevano neanche dove erano capitati. Larry Drew, che pure non era, andavamo in Albania e era convinto che andavamo vicino al Vietnam. Però ho conosciuto Workman, Ed Workman che sapeva tutto. Andava al cinema con i compagni di squadra e non capiva un cavolo di italiano. Che cosa vuol dire? Che era coinvoltissimo. Però ho conosciuto anche Todd Day, ve lo ricordate? Sì. Una disgrazia. Purtroppo, nell'anno della retrocessione. Era un campione dei piedi al collo, più in su no. Era un giocatore fantastico. La sera ero sentito al ristorante e gli diceva, e tu, e tu, chi se ne frega? E non sai che cosa vuol dire per noi, per te non te ne frega un cavolo, a noi sì è tanto. Certo. Quindi, ma. Vedremo. Senti Andrea, poi tra l'altro dicevamo prima la trasmissione che questa qui è la prima stagione in cui tu non parti direttamente con la squadra. E questo sicuramente non ti ha aiutato perché c'è una cosa che mi hai raccontato che mi ha colpito, tanto lo dico sempre. Lui dice che già durante il ritiro studia i video dei compagni per vedere come vogliono ricevere la palla, dove preferiscono che lui gliela passi, quando, eccetera. Ecco, tutto questo timing che arrivando a dicembre forse non sei riuscito a creare, non con tutti perlomeno. Sicuramente. Premettendo che mai mi sarei aspettato tutto quello che è successo quest'estate perché è stato un po' così, un po' una botta fredda. Da Reggio a iniziare a Reggio, io e Elisevicius da soli, ad andare a Saragozza, ad ritornare a Pesaro. Quello che dici tu è per me fondamentale, per me la pre-season è il vero momento dove puoi veramente fare gruppo e conoscere bene tutti i ragazzi. Al di là dei video io mi prendo proprio il tempo a fino all'allenamento quando i ragazzi tirano a vedere come tirano, dove tirano meglio, perché tirano meglio se da due, da tre, dal palleggio. E purtroppo girando non c'è stato mai tanto tempo e durante la stagione è difficile andare a prendere tutto. È ovvio che puoi arrivare da qualche parte ma non puoi arrivare dappertutto. Quindi secondo te nel ritiro si crea molto del nocciolo della squadra? Per me sì, per me le squadre si formano nella prestagione, poi puoi fare meglio, puoi fare peggio, ma per me la prestagione è uno dei momenti più importanti, dove comunque la squadra si riunisce, dove comunque l'allenatore ti chiede determinate cose, dove comunque crea il sistema. Ne parlavi prima con Luciano, ovviamente quattro giocatori, allenatore diverso, due filosofie completamente opposte. Non è facile per i giocatori, non è facile per gli italiani, gli americani, anche per il pubblico, per tutti non è facile. Però avendo già vissuto l'anno scorso un'annata simile, dopo tanti anni dove hai fatto al massimo livello, hai vinto Scudetti e tutto, ma hai vissuto un'annata così, adesso dico non si può mullare, adesso dico ce la possiamo fare, ma ce la possiamo fare perché io so che se noi giochiamo in una determinata maniera non siamo quelli da ultimi in classifica, non siamo quelli. È ovvio che però, e non possiamo permetterci cali, è ovvio che il pallone è importante, è ovvio che una palla persa, due punti, un lay-up subito sono tutte cose fondamentali e dobbiamo capirlo il prima possibile. Luciano, tra l'altro quest'anno siamo partiti dicendo che bel gruppo di italiani che abbiamo, e poi quando è arrivato Cincia, questo livello si è ulteriormente alzato, all'inizio forse la squadra è stata in qualche modo appoggiata forse troppo sulle spalle degli italiani, mentre gli americani facevano fatica, uno è stato tagliato subito, l'altro poco dopo, insomma. Adesso però con l'arrivo di Sacchetti la squadra sembra invece quasi più sbilanciata sul gruppo USA. Quindi ecco, non è che, non lo chiedo a Cincia perché non voglio metterlo in difficoltà, ma se vuole può rispondere tranquillamente, però da fuori sembra quasi, non dico che ci sia una spaccatura, ma che abbiamo ragionato troppo parlando di italiani e di americani e mai veramente della squadra nel suo complesso, cosa che gli anni scorsi forse non era successo. In effetti la storia della stagione racconta questo, all'inizio c'era un bel gruppo di italiani, poi adesso sembra di poter contare soltanto sugli americani. Io spero che Sacchetti trovi un sistema che consenta tutti e due i gruppi, perché poi i gruppi non esistono, esiste una squadra, che ci sia una squadra, non che un americano vada da una parte e un italiano vada dall'altra. Io spero che ci sia ancora in tempo l'allenatore a trovare questa soluzione, perché in effetti all'inizio vedere Totè, ha fatto un inizio fantastico, vuoi vederlo quasi perso, adesso l'abbiamo rivisto ritornare protagonista. Poter contare sulla memoria di Andrea e le sue capacità, ha detto bene poco fa, quello che ha detto io è una lezione di pallacanestro. Io non so quanti giocatori, prima della stagione si mettono a fare tutto quello che fa Andrea a fine allenamento, durante l'allenamento controllando, vedendo quello che fanno gli altri. Io ricordo che lui lo faceva però anche a Milano, anche quando aveva giocatori assai più qualificati di quelli che sono qua, con tutto rispetto per quelli che abbiamo noi, ma quando giocava con l'Olimpia aveva signori giocatori. Però vedevo che lui parlava con gli altri, con la stessa intensità, si vedeva che era il leader della squadra. Io credo, spero, che lo seguano. È quello che mi sento di auspicare. Non ho certezze, non so che cosa dire, però vorrei vedere questa squadra che diventa veramente squadra. Non puoi prendere 67 punti non facendo un fallo, senza alzare la voce, magari dando anche una gomitata. Andrea, questa unità c'è ancora? Guarda, è normale che quello che avete detto è la verità, non è che si può nascondere, però non c'è spaccatura, questo assolutamente no. È normale che io vedendo le partite quando ero a Saragozza, c'era un gruppo italiano che trainava, adesso c'è un gruppo americano che traina, però se io ti devo fare un esempio e ti dico con Brescia, chi ha trainato tutti? E allora lo possiamo fare. Sta a noi, al di là di Meo, al di là dei vice, di tutto, sta a noi entrare in campo da squadra e giocare da squadra. Poi ci sarà la partita che Justin fa 25, la partita che lo fa Ford, la partita che lo fa Bamford, la partita che l'ho fatto te e altri. L'importante però sai, la squadra dov'è che si vede? Si vede nel passarsi la palla, ma nella difesa. Quando uno viene abbattuto ci deve essere sempre l'aiuto. Questa è una cosa che purtroppo a volte manca, ma non che manca sempre, perché tu vedi magari dei momenti della partita e dici cavolo, ci sono, e poi i momenti di blackout totale. Questo blackout che purtroppo è evidente, ma è evidente nelle squadre che vanno male. Se tu vedi Treviso è uguale, se tu vedi Brindis è uguale, se tu vedi noi l'anno scorso, perché io ci ho giocato, era uguale. Noi avevamo dei blackout, ciao Dio. Purtroppo sono delle squadre che, tanto se sono in fondo alla classifica, dei problemi ci sono, non è che si possono nascondere o è la sfiga. Dei problemi ci sono, ma in questi problemi si possono risolvere. Ecco, e abbiamo il tempo, ci sono otto partite, dobbiamo giocare col coltello fra i denti, ogni partita non possiamo fare un tempo a Trento e un tempo no, e questo ci deve servire da lezione. Che poi scusa se dico, succede anche a Milano, succede anche a Virtus. La Virtus guarda la partita che ha fatto ad Atene, incredibile, stava giocando un primo tempo straordinario, dunque il secondo tempo non segnava più. A vari livelli però può succedere anche... A Milano, guarda Milano, la stessa cosa. Soltanto che loro sono su, e noi siamo giù, purtroppo non possiamo concederci. Giovanni, ci sono già delle domande da casa, apriamo pure le linee. Iniziamo subito con, buonasera a tutti, un saluto nostro al capitano Cincia, e ancora non voglio crederci che tutto sia finito, speriamo che la squadra faccia un'altra prova di forza, come è successo al Mediolanno, un forum, DNA bianco-rosso. Cincia, Lorenzo ci chiede, pensi di voler chiudere la tua carriera qui a Pesaro? Allora, sono onesto, non te lo so dire, nel senso che quando sono venuto qua, la mia concentrazione era solo sulla metà stagione che mancava, ma semplicemente per quello che ci siamo detti prima. Sono abituato a scegliere la squadra testata, a guardare gli obiettivi, a crearmi la squadra durante la prestagione, a curare qualsiasi cosa. Quindi non te lo so dire, in questo momento il mio focus è assolutamente su otto partite, una alla volta, l'ho detto più volte, non guardo il calendario, so tutte le partite che ci sono da qua alla fine, ma non faccio tabelle, due punti, non due punti, qua sì, qua no, così come ho sentito dire che se Treviso vince, noi perdiamo con Bologna, cosa possibile, andiamo sotto i D4. Sì, ma ci sono delle partite, c'è lo scontro diretto, non è quello, la cosa che non deve mancare è la voglia di lottare. E qua a Pesaro questo fa la differenza, il pubblico fa la differenza, perché vedere 7000 persone, al di là che sia Virtus Bologna, ma con Brescia uguale, con Brindisi ce n'erano uguali, tutto il campionato siamo terzi per media spettatori, e stai lottando per non retrocedere, ecco, ti deve far capire che se tu dai, poi dopo loro danno il 200% e succede come Brescia, che vai a vincere una partita contro la prima della classe. Quindi nessuno deve credere che sia finita, ecco. Un carissimo saluto arriva anche da parte di Lollo, Cristiano e Giulio, gli amici del mare, per te Andrea, domenica sarò a Pesaro per sostenervi. Un carissimo saluto arriva anche dalla nostra direttrice, Manuela Rossi, che salutiamo cordialmente, e orgogliosa di avere Andrea Cincerini qui a Pesaro. Un saluto a Cincerini, un pesarese che non si tira mai indietro, siamo certi che il tuo impegno non mancherà mai. Speriamo che non sia questo un anno sbagliato per tutti. Un carissimo saluto anche a Luciano Murgia, grande giornalista, scrittore e tuttologo a Pesaro, oltre che il basket che ha seguito, ha girato il mondo, tanti sport vissuti, sicuramente in modo particolare la Scavolini Basket degli Anni d'Oro da parte di Roberto Tomassoni. Cincia, ti ricordi della tua nata ad Urbania? Chi lo scrive? No, perché era mio fratello, io non ho mai giocato a Urbania. Però me la ricordo perché mio papà era allenatore, mio fratello ha giocato lì a Urbania. Diciamo le minor in cui hai giocato tu. Io le minor in cui hai giocato tu. a Montecchio, che era in B2, poi ho giocato a Senigallia in B1, l'anno che anche la Scavo era in B1, e poi ho giocato in B1 a Pistodio, che ho fatto la promozione, e poi ho fatto un anno a Monte Granario, poi sono andato a Pavia in A2, e da lì poi dopo sempre a uno. Allora, andiamo. Ci chiedono, scusami, l'ultima cosa. Buonasera, sono Mauro da Monte San Vito. Buonasera. Volevo sapere quanti biglietti sono disponibili ancora, sono di fuori provincia, che vuole venire alla partita di domenica della VE. Sono disponibili, sai, coi due, per vincere per il contesto di Cincia, perché adesso infatti affrontiamo questo argomento. Allora, la Vitifigo Arena è già sold out per la sfida con la Virtus. A meno che la Commissione di Vigilanza non sblocchi l'apertura della seconda gradinata, che è la gradinata P, ma alle notizie che abbiamo questa sera sembra di no, i biglietti sono andati esauriti già da martedì sera. Ecco, che effetto fa a voi giocatori sapere una cosa del genere mentre siete penultimi? Si deve far pedalare, per non dire altro. No, il pubblico di Pesaro risponde sempre presente. Luciano ha detto benissimo, una città che si respira basket, una città che vive di basket e che merita di restare in Serie A. e noi che siamo i protagonisti in questo momento dobbiamo fare di tutto per dare a Pesaro la Serie A. Personalmente è ovvio che darò tutto quello che è dentro di me e cercherò di darlo anche ai miei compagni. Ovvio che sapere che il palazzetto sarà sold out contro la Virtus Bologna di martedì sera già esauriti i biglietti dopo una partita persa di 30 ecco, ti fa capire ancora una volta di più che il pubblico di Pesaro risponde presente. E poi risponde presente, può essere il sesto uomo? Sì, se però noi diamo il là facendo vedere che può essere il sesto uomo se è sempre lì, i protagonisti siamo noi in campo. Poi può esserci qualsiasi cosa ma siamo noi che dobbiamo dare il primo step. Ecco. Luciano, a chi ancora rimpiange il vecchio palazz bisognerebbe far notare che metà di questa gente se giocassimo il vecchio palazz sarebbe fuori. E quindi la passione per il basket a Pesaro non muore mai a prescindere dalle categorie, dai risultati, come te lo spieghi e poi appunto, chiaro, tutti dicono se avessimo giocato il vecchio palazz alcune partite quest'anno le avremmo vinte ma oramai parlare di una cosa che è successa quasi 30 anni fa quindi forse bisogna guardare per me è anche imbarazzante io sono nostalgico, io amavo l'hangar, il vecchio hangar tutti lo amavamo e sono sempre stato contrario a questa grande struttura che costata tanti soldi. Io ho dell'idea che il geometra Pagnini non so se qualcuno lo ricorda era legato dirigente anche a Loreto i figli hanno giocato a basket ha fatto un progetto fantastico girare l'asse del Palazzo dello Sport invece di andare verso il mare lungo la Nazionale 7500-8000 era una struttura perfetta per la città la politica ha scelto altrimenti io continuo ad essere contrario però dire che l'impianto non è bello sarebbe ridicolo dire che è bellissimo vederlo pieno è fantastico io come diceva Andrea la spinta la deve dare la squadra poi io credo che la città ha sempre risposto però non dimenticare tu seguivi con me che una semifinale di Coppa dei Campioni con Limoges c'erano al Palazzo dello Sport di Via dei Partigiani non c'erano 4000 persone quindi ci sono sempre i tempi più si è meglio è però prima la squadra che deve trascinare poi dopo il pubblico credo che sia sempre presente sempre partecipe questa sennò come fai a vivere tutta la settimana senza parlare di basket certo è questo che fa la differenza soprattutto che qua diciamo che non si esorisce la domenica la discussione va avanti tutta la settimana e poi io ho proprio la sensazione che quando voi vincete soprattutto quando vincete una partita come quella con Brescia la gente sia più felice per la strada magari sarà una mia sensazione però le facce le battute che le persone ti fanno per strada la domanda la parola che ti vogliono dire non lo so voi quando vincete create un'euforia generale quindi ovviamente quando si perde male il lunedì è nero proprio già è difficile il lunedì mattina poi quando la vuelle perde ancora di più questo lo senti? lo sentite? si sente si sente incontro gente che sia al supermercato che sia per strada che sia durante qualche camminata è ovvio che a Pesaro c'è il basket ecco e sicuramente vincere aiuta sicuramente vincere fa star bene io ancora negli occhi la contestazione ha avuto dopo Brindisi dove vedevo della gente onestamente disperata ma nel senso buono che ci teneva veramente tanto ecco io penso che noi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre mani e nel nostro fisico per fare in modo che la gente a fine anno qua a Pesaro sia contenta assolutamente ecco poi tra l'altro la vittoria di Brescia che ha portato i ragazzi in curva anche questa voglia di festeggiare insieme anche per un americano penso che comunque soprattutto Foreman che era appena arrivato e si è ritrovato catapultato in mezzo ai tifosi siano sensazioni che non si provano dappertutto anche per uno di New York che sicuramente è più scaffato di altri visto in tv è stato veramente emozionante ma stamattina la mia solita camminata anzi ho ripreso un po' a camminare per fortuna al porto c'era un gruppo di signori attempati parlavano del terzo quarto di Trento capisci parlavano del terzo quarto di Trento ma come erano incavolati dispiaciuti ramaricati ma se non ami il basket se non ami questa squadra dopo pochi giorni stai ancora a parlare di quello no certo ma assolutamente l'aria che c'è a Pesaro è proprio di una voglia di partecipare anche alla vita della squadra quindi anche ecco perché il gruppo di italiani era così importante perché magari chi non parla inglese comunque può per strada approcciare i nostri giocatori e comunque confrontarsi conoscerli magari qualcuno basta vedervi sul campo altri invece magari hanno piacere di interagire perché siete dei modelli magari soprattutto per i ragazzi per i bambini quanti bambini che vi guardano tantissimi tantissimi no ma sicuramente ripeto io penso che che noi possiamo fare un grande finale di stagione per quello che è il nostro obiettivo in questo momento e cambia al di là per la salvezza di Pesaro anche la stagione di ognuno di noi perché non penso che ognuno di noi sia contento di avere una retrocessione nel curriculum anzi io ho 38 anni ma a me non me ne frega niente cioè io farò di tutto per non retrocedere ma non perché c'è il bollino non me ne frega niente ma perché ho scelto di tornare a Pesaro e non voglio dare un dispiacere a quella che è la mia città ma al di là di quello l'ho fatto anche a Reggio Emilia anche se non era la mia città però è una cosa che devi sentire dentro io io dentro è non voglio retrocedere e farò di tutto per non retrocedere poi ci sono anche gli avversari poi c'è la fortuna ci sono i tiri che entrano non entro c'è tante cose ma la verità è che se tu entri in campo con la faccia cattiva e giochi duro puoi vincere anche con Brescia perché è un campionato strano un campionato dove la prima perde con l'ultima e poi magari la prima l'esempio della Coppa Italia è palese cioè Napoli gioca la semifinale con Reggio Emilia praticamente aveva perso recupera fanno i supplementare finiscono tardi la sera Milano aveva tutte le carte in regola per vincere e alla fine Napoli ha vinto è così c'è il basket è bello proprio perché tu puoi vincere con tutti e perdere con tutti però ecco la cosa che non deve mancare è che a noi è mancata purtroppo in tante partite condizione mentale posso farne una domanda da Andrea certo ma quando voi parlate i giocatori americani sanno che cosa succede cioè la situazione classifica i rischi perché appunto ti ripeto Todd diceva e tu e tu a due che cavolo me ne frega diceva allora cioè bisogna fare un preambolo gli americani onestamente che sia Spagna Italia Germania Francia loro sono abituati a girare ma non lo dico di questi di Pesaro assolutamente come non quelli di Reggio Emilia di Milano ovviamente che sia una retrocessione che sia una non vittoria dello Scudetto che non sia una Coppa Italia certo che gli frega e gli interessa ma mai quanto magari un italiano che vive che sente e che sente parlare che sa la stessa lingua e tutto ovvio però ti posso assicurare che è un gruppo sano è un gruppo di gente che ha voglia di io ho visto nelle facce dopo Brescia la felicità di un momento finalmente andato via così come con Trento ho visto un gruppo in difficoltà noi eravamo un gruppo in difficoltà che purtroppo al posto di unirci si siamo slegati ecco queste cose non devono succedere però io penso che ognuno di noi dal primo fino a Maretto che è l'undicesimo tutti vogliono salvarsi allora Giovanni se vuoi possiamo andare con qualche domanda iniziamo subito buonasera a tutti sono Claudio tiposissimo dal 1980 in quei tempi nel riscaldamento si incitavano tutti i giocatori uno a uno i nomi dei giocatori vorrei tanto si risentisse quel clima che caricava veramente tanto quei giocatori ci potrebbe iniziare la domenica questo è un grandissimo spunto per gli Ultras grazie Cincia per tutta la grinta che metti in ogni partita si vede sicuramente che tieni alla maglia un messaggio ci arriva da Anto Torres dobbiamo continuare a crederci a non mollare a lottare mancano otto partite tutto ancora è possibile niente è impossibile vedete voi stessi sul parchè vedete i tifosi disloccati nei vari settori il sold out pronto per domenica non siete distanti siete vicini uniti per il bene della VL siamo tutti artefici del nostro destino voi scendete in campo quindi dovete metterci da tutta tutta testa gambe cuore mettete i tifosi hanno il dovere di continuare a sostenervi incitarvi con la grande passione che contraddistingue se c'è una possibilità giochiamoci alla fine in fondo senza alcun timore senza alcuna paura non dimentichiamoci che a darci coraggio e forza ci sono due angeli che ci guardano dal cielo Marco Piccoli col megafono e Alfonso Ford che guarda tutta la partita e il sesto uomo in campo sempre presente ogni domenica a ogni partita non è finita finché non è finita il campionato finisce a maggio otto partite forza e coraggio VL ti voglio bene con te insieme a te sicuramente un messaggio ci arriva anche da Angelo da Neretto da provincia di Teramo ci seguono da Teramo volevo chiedere grande Andrea Cinciarini se non pensa che sarebbe buono fare una settimana di ritiro verso Pasqua in modo da amalgamare unire ancora di più tutti i ragazzi cosa ne pensi? che se ne era anche parlato guarda non sono dell'opinione nel senso che tante volte sono successi anche in tutta la mia carriera che c'erano queste possibilità e ho sempre detto di no ma che era a Milano che c'è stata l'opportunità a Reggimiglia o a Montegrenaro mi sono sempre trovato contrario ma semplicemente per una cosa tu il gruppo lo crei in palestra quella è la nostra casa tu la palestra tu in quelle due ore tre ore quello che è devi dare il massimo devi essere concentrato devi stare lì con la testa in spogliatoio puoi ridere scherzare fare gruppo e quello è il vero gruppo perché poi adesso in un'era del genere con i social i telefonini l'iPad i giochi poi dopo alla fine non te lo vivi il raduno vero e proprio secondo me noi siamo dei privilegiati perché noi facciamo il lavoro cioè del lavoro il nostro sport che amiamo la nostra passione cioè noi dobbiamo farlo vedere a volte tante volte io vedo anche nelle altre partite che seguo sembra che tanta gente gioca senza passione a volte succede anche a noi ecco questa è una cosa che non deve mai mancare cioè l'amore per la canestra e la voglia di sbattersi per andare a prendere una vittoria questa qua è una cosa che non deve mai mancare poi ripeto puoi fare canestro puoi non fare canestro puoi avere un'annata positiva un'annata negativa è normale come nella vita anche nello sport e dappertutto è così c'hai delle annate che fai sempre canestro delle annate che non fai canestro delle annate che puoi vincere tutto delle annate che vinci di meno però ecco la voglia di sbucciarsi le ginocchia la grinta l'aggressività quella le devi sempre avere assolutamente continuo scusa Betta buonasera un caloroso saluto da parte di Jacopo Annalisa e Pierfilippo invece ci chiedono Cincia che rapporto hai con Daniel Hackett comunque quando venivi a Pesaro a giocare quali erano le sensazioni che si provava allora con Daniel è un rapporto molto bello siamo cresciuti insieme abbiamo fatto le giovanili insieme poi lui ha fatto la scelta di andare in America tra l'altro mi aveva anche chiesto di andare però non me la sono sentita due carriere secondo me molto belle lui ovviamente secondo me ha raggiunto l'apice vincendo l'Eurolega con il CSKA meritata ha fatto veramente una bellissima carriera tra l'altro ha rinnovato ancora Bologna quindi sta facendo una stagione meravigliosa gli auguro ogni bene magari se domenica viene giù un po' stanco è meglio però il rapporto è buono assolutamente per quello che riguarda invece quando venivo qua a giocare a Pesaro la prima cosa che mi piaceva tanto era il palazzetto mi è sempre piaciuto per me è molto bella al di là che mio papà mi portava all'angara a vedere la Scavolini e quindi era tutta un'altra cosa però è un bellissimo palazzetto è sempre pieno di gente e quando venivo salutavo tante persone perché comunque ho sempre avuto un buon rapporto con la città d'estate la passo qua e quindi adesso che vesto questa maglia per me ripeto l'orgoglio è tanto e voglio voglio portare la salvezza non si fa uno contro tutti si deve fare tutta la squadra io dico voglio ma perché è dentro di me però voglio darlo ogni singolo consiglio come diceva Luciano ma è la verità a me piace parlare tantissimo con i giocatori ma più che altro per l'esperienza che io ho infatti Meo diceva che eravate una squadra troppo silenziosa e speriamo adesso io non sono mai stato con lui anche Justin è un ragazzo che parla tanto si si è un ragazzo che parla tanto è un bravissimo ragazzo ha voglia di crescere ha voglia di emergere gli piace Pesaro è un grande talento insomma è stata secondo me un'ottima scelta e speriamo che ci possa dare anche lui quelle sue fiammate che fanno bene al pubblico e fanno bene a noi andiamo un attimo a vedere la classifica della Serie A Andrea ecco grazie allora come vedete Epic Casa ha 10 punti noi ha 12 hanno Tribulletta 14 quello che diceva prima Andrea se puoi mettere la schermata successiva dalla regia ecco questa è la corsa salvezza è vero che non bisogna fare le tabelle però ogni tanto i giornalisti si divertono a farle e quello che dicevi prima Andrea è molto vero perché è una possibilità che Treviso domenica sia più 4 perché ha Cremona in casa che è una partita alla portata e noi abbiamo Bologna quindi se le cose vanno secondo pronostico perché poi si potrebbe ribaltare tutto potremmo trovarci a meno 4 ma nella giornata successiva Treviso va in trasferta a Pistoia Campaccio noi ci abbiamo vinto di un punto quindi lo sappiamo e Pesaro è ancora in casa stavolta con Reggio Emilia quindi diciamo facendo delle ipotesi realistiche Pesaro potrebbe di nuovo essere a meno 2 prima dello scontro diretto quindi non tutto sarebbe ancora perduto poi magari voi battete la Virto se tutti questi discorsi li buttiamo nel cestino però che ne pensi? sicuro allora sicuramente guardi il calendario loro hanno avuto Reggio Emilia la scorsa in casa e Cremona questa e noi Reggio Emilia e Cremona le avremo più avanti e ce le avremo avremo Pistoia in casa che è un'altra partita che può essere tra virgolette portata ovvio Treviso guardando il calendario ha un finale difficile però non possiamo calcolare queste partite perché l'anno scorso ricordo che noi la penultima giornata perdemmo a Sassari e allo stesso momento Treviso vinse di un punto contro la Virtus Bologna con lo sfondamento e non sfondamento di Cenghiela e si salvò perché poi l'ultima Treviso andava a Venezia e noi c'eravamo il 2 a 0 poi è andata bene comunque perché Trieste ha perso però sono delle cose che tu non puoi controllare non le puoi controllare quindi e quindi Reggio Emilia a quel punto eravate retrocessi tra virgolette noi a 40 minuti dalla fine eravamo retrocessi partivamo da penultimi retrocessi poi Trieste perse a Brindisi noi vincemo con Trento e ci siamo salvati non è difficile farle magari saremo noi tre a giocarci la salvezza però da sopra può anche far qualcuno un filotto sono sincero io vedo una vanola in difficoltà però siamo sempre lì la prossima partita Cremona va a Treviso potrebbe anche vincere perché deve perdere per forza sulla carta e noi dobbiamo perdere per forza non lo possiamo sapere ovvio se questo è più forte questo è meno forte sono calcoli che si possono fare però sempre per fare un esempio noi l'anno scorso con Verona che è retrocessa 0-2 avevamo però poi abbiamo vinto con Milano abbiamo vinto a Trento abbiamo fatto a Varese contro la Varese che l'anno scorso ma anche la VL dei vecchi tempi con squadre molto diciamo di basso livello no? il primo anno con i due rookie Anosic e Turner Musso cioè era una squadra che ha tante difficoltà vinse delle partite incredibili nel finale cioè non puoi mai sapere cosa può succedere eravamo spacciati invece bisogna crederci crederci sempre giocare come si deve ecco poi dopo le tabelle le facciamo alla fine i conti si fanno al 5 di maggio che c'è l'ultima partita e tutti noi speriamo che che peso resti in Serie A ecco Luciano la sua lunga storia la VL appunto si è salvata in situazioni più che rocambolesche ecco ce n'è una che ricordi con particolare affetto? no tutte le salvezze sono bellissime perché sono sofferte perché nessuno ti regala niente io le uniche salvezze che ricordo male sono quelle acquisite a tavolino quelle comprate io quelle non mi piace quelle non mi piace devo dirti che siamo in momenti scherzosi ricordo la salvezza incredibile quella grazie al migliore straniero mai arrivato in Italia a Pesaro MacCovid eravamo già retrocessi è arrivato questo straniero cinese che ci ha salvato no tutte le salvezze sono belle io la più bella spero che sia la prossima quella che ci attende fra otto giornate andiamo allora a occuparci di questa partita che ha praticamente fatto scoppiare già l'astronave perché come sapete a causa di una concomitanza con la partita di calcio vis Cesena le forze dell'ordine sono impegnate su due fronti abbastanza caldi e quindi al momento questa gradinata che consentirebbe altri 1500 posti è bloccata quest'anno comunque parliamo della Virtus adesso bisogna riconoscere che Segafredo sta giocando con una qualità superiore all'Armani quindi al di là del primo posto di Brescia è la più seria candidata allo Scudetto secondo me non so se sei d'accordo Andrea cosa ti colpisce del sistema di gioco di Luca Banchi? ma una cosa in particolare mi colpisce che ogni giocatore sa esattamente qual è il suo ruolo in squadra e giocano tutti insieme compatti questa è una cosa incredibile non è facile non è facile per niente soprattutto in realtà come Milano e Bologna dove sei 15, 16, 17 giocatori sapere esattamente che ogni giocatore ha il suo ruolo sa cosa deve fare e Bologna ha questa qualità e tanto merito a Luca che voi conoscete perché è stato anche qua a Pesaro io conosco di persona non ho mai avuto la fortuna perché secondo me è un bravissimo allenatore di essere allenato da lui io sono arrivato a Milano quando lui andava via però ecco questa è la cosa che mi ha colpito più di tutti giocano con con un'energia un'intensità molto molto alta hanno un 38enne che sta facendo sempre canestro come Bellinelli Hackett e Dunston gli altri due veterani sono due mastini in difesa e in attacco sanno fare loro hanno Schenghelia che per la prima metà di anno è stato a mani bassa MVP di Eurolega a me piace Cordinier e poi hanno tutti un gruppo Cordinier Lumberg Lumberg quante partite ha risolto e poi Abbas ha il suo ruolo Polonaro ha il suo ruolo Michi ha il suo ruolo entrano Dobric ma anche lo stesso Mascolo Paiola che sa che il ministro della difesa tutti hanno il loro ruolo e questo per un allenatore secondo me è fondamentale cioè io penso che nel basket di oggi ci devono essere delle gerarchie chiare delle gerarchie chiare con dei ruoli chiave questa secondo me è la cosa più importante io sono appassionato di basket mi piace molto in futuro come sai voglio fare l'allenatore mi piace guardare gli allenatori e penso che questa sia una cosa fondamentale avere una visione chiara di com'è la tua squadra e farla rendere secondo quello che tu dici Banchi la sta facendo rendere esattamente come vuole lui gli spinge a dare quel qualcosa in più in questo momento si vede assolutamente Andrea che ha già superato l'esame da allenatore quindi in realtà la patente ce l'ha già nella tasca beh vedi che ho detto giusto che è un allenatore in campo certo assolutamente vi si diceva sempre che il playmaker è il prolungamento dell'allenatore adesso il playmaker non c'è più però per fortuna ancora noi uno ne abbiamo no ma sono d'accordo secondo me al di là di tutto il playmaker per un allenatore deve essere la sua spalla destra per forza perché poi dopo il playmaker è quello che parla in campo che cerca di dare il linguaggio che dà l'allenatore è fondamentale e al di là di tutto in un futuro che spero sia il più bello possibile l'allenatore vorrei portare tutto quello che ho imparato da giocatore e di sicuro una delle cose più importanti per me è avere un playmaker che so che è la mia guida in campo ma anche dei giocatori cardine chiave a cui affidarti come ad esempio Banchi che sa che Daniel l'ha avuto a Siena l'ha avuto a Milano l'ha avuto a Bologna Dunstan difende Bia Bellinelli che gioca a 10 15-20 ha sempre le sue uscite per tirare nei blocchi ha dei ruoli chiave poi se la palla nel finale va a Lundberg per decidere delle partite Lundberg ha la fiducia che anche se fa zero poi segna questo c'è anche faccio un esempio a Real Madrid hanno vinto la Coppa dei Campioni con Ljul che ha fatto zero l'ultimo tiro va a Ljul e ha segnato questa è fiducia è fiducia nel sapere che Ljul quei tiri li può mettere senti Luciano tu conosci benissimo Luca Banchi perché con lui condividi anche una passione che in pochi conoscono quindi raccontaci delle serate che hai passato con lui a Pesaro a parlare di baseball si devo dire che uscivamo siamo usciti qualche volta andavamo a mangiare la pizza io Elio Giuliani e Maurizio Surico tra l'altro Maurizio Surico ha una definizione di Luca fantastico carismatico ti prende anche quando vai a cena è un grande affabulatore Luca racconta parla ed è un piacere quindi non parlo dell'allenatore parlo di Luca Banchi ci conosciamo da sé da tanto tempo perché lui sa che io sono un grande appassionato di baseball e lui è fanatico di baseball lui veniva a Pesaro pochi lo sanno quando era ragazzino a fare l'ultra per il grossetto ti fava con il pulmo a dei tifosi quindi è uno dei suoi migliori amici a Pesaro il nostro caro amico Massimo Mainardi abbiamo parlato di Massimo abbiamo parlato di tante cose andavamo a cena si parla di baseball ovviamente si parlava anche di basket io considero veramente una persona piacevolissima toscano con tutte le qualità del mare in mani e colpisce molto si vede che ha una grande personalità è capace anche di andare contro i dirigenti e non ha esitato io lo considero sempre un grandissimo allenatore mi diciamo Maurizio che tanti anni fa quando erano nel settore giovanile Luca era già molto bravo lui si lanciò con la giovanile di Livorno sappiamo tutti che storia ha fatto con tutti i ragazzi poi ha lavorato bene in Serie A in A2 ha lavorato bene a Iesi a Trapani a Trieste mi è piaciuto sempre io di lui dico soltanto questo è a mio modesto parere il miglior allenatore italiano in questo momento io ho fatto l'abbonamento alla televisione della FIBA soltanto per vedere la Lettonia e lui lo sa io gli mandavo subito i messaggi ci mandavano i messaggi l'estate scorsa io ero in vacanza all'isola di San Pietro a Carloforte ero in un posto in una località stavo camminando si chiama Banchi dopo un po' arriva un messaggio dice la Virtus ha esonerato a Scariolo sembra che vadano su Banchi dico che cavolo ma sei incredibile io sono molto amico con Sergio l'ho conosciuto qua gli voglio un gran bene però ti garantisco nella mia graduatoria Luca è il migliore in questo momento in questo momento possiamo dire però che un piccolo rilancio comunque Pesaro gliel'ha dato perché lui non allenava più in Italia da un po' non l'ha nascosto ha fatto un'intervista molto carina con Walter Fuochi sulla Repubblica ricordando come è stato bene a Pesaro io infatti non vedo l'ora di poterlo salutare domenica magari gli ho preparato una bottiglia gli devo dare una bottiglia di vino buono no no gli ho dato dopo se ero perso Pesaro non c'è bisogno comunque sarà il primo ritorno d'avversario e penso che per il pubblico sarà emozionante perché c'è stato un grande amore come tutti gli allenatori che sono stati poco e quindi non hanno avuto modo di essere criticati un altro Ramagli che è venuto qui ha vinto la stagione in corso ha vinto il campionato di A2 ci ha riportato in Serie A e poi è andato a Treviso e non c'è stato modo di avanzargli una critica e quindi è ancora amatissimo perché qui non ha sbagliato nulla come Luca ma sai che Luca conosceva bene la città andava in giro si faceva i suoi passeggiati al mare e andava a frequentare molti posti il suo consiglio di chi? di Daniel una sera ci ha portato in pizzeria gli ha detto ma scusaci perché siamo venuti qua? perché me l'ha consigliata Daniel infatti ecco quando è andato lì alla Virzo ho detto ha già una buona conoscenza questo grande rapporto non può che far bene poi soprattutto ha rilanciato Berinelli che con Sergio sembrava completamente avulso per scelte anche io presumo che Sergio non lo facesse perché scemo perché far giocare insieme Teodosici e Berinelli non è mica facile ma infatti forse questo cambiamento per la Virtus che sembrava una perdita grossa sai a volte anche quando se ne va un leader cambiano le dinamiche magari qualcosa è cambiato sicuro sicuro è un'altra Virtus con più o meno gli stessi uomini vuol dire che lì il manico ha lavorato bene poi al di là di Sergio che comunque con tutto quello che ha vinto non puoi dire che è un cattivo allenatore assolutamente però Banchi ha saputo fare e ha saputo dare alla squadra un altro volto e poi Daniele sta facendo una stagione super Berlinelli una stagione super Lumberg che era fuori addirittura gli ha fatto vincere un sacco di partite questo è riuscire a far rendere i tuoi giocatori e penso che sia forse una delle cose più belle per un allenatore assolutamente ma poi ha detto bene Andrea come gioca la Virtus ognuno sa quello che deve fare io domenica quando ho visto la partita a basket non aveva sorpreso che partita che gli ha fatto è un grandissimo conoscitore di basket e anche di baseball ma anche di calcio e anche di vino perché credo che sua figlia abbia un'azienda vinicola una cosa simile vicino a Grosseto è un personaggio poi i toscani sono sempre molto accuti poi lui di Pesaro parla soltanto bene anche quando era qui gli piaceva molto la città bene allora Giovanni due domande intanto una curiosità che arriva da Massimo da Augugliano per Luciano negli spazi ristrettissimi del vecchio hangar come facevate a fare le interviste e le conferenze stampa siamo impazziti si andava di sotto nello sgabuzzino c'era la sala stampa piccola ristretta nel corridoio poi addirittura la sala stampa dove facevano riunione quando Darren Day faceva gli scherzi oppure il mitico Lloyd Daniels che telefonava al numero e Valerio rispondeva quelle cose stranissime perché c'era possiamo dire c'era un telefono fisso dentro la sala riunioni e quindi loro chiamavano per disturbare la conferenza o qualcuno che dormiva abbiamo vissuto dei momenti incredibili beh anche le risse nei corridoi successo di tutto dentro l'hangar quello che ha detto Bianchini è stato molto simpatico quando è stato di nuovo adesso aperto non so se l'hai visto Andrea il nuovo hangar com'è adesso dentro l'auditorio è piacevole perché ha mantenuto comunque la sua struttura la sua identità però ha modernato e Valerio ha detto del vecchio hangar mi ricordo che la gente stava seduta come gli egiziani cioè di taglio perché se non ci stava ed era così davvero era fatica anche avere il proprio posto dato che non c'erano le poltroncine tu non eri sicuro di dove dovevi star seduto quindi se ti alzavi in piedi quando ti risedevi non c'era più il tuo posto anche la tribuna stampa come era eravamo messi abbastanza male oddio non che questa di adesso sia particolarmente cioè rispetto all'impianto è molto piccola sì è vero hanno mantenuto più o meno gli stessi posti in un palazzo da 10.000 bene l'altra domanda allora sì intanto arriva un grandissimo saluto da Max da Pesaro cincia leader con la L maiuscola sentendo di parlare quanto sarebbe bello vederti esultare domenica con tutto il popolo a bianco rosso un caro saluto anche a Betta e Luciano fino alla fine forza VL sempre ci arriva un messaggio da Luigi da Soria news sulla società un letto di un argnone del consorzio non ditemi che si retrocede nell'anno da capitale della cultura di Pesaro e di Ricci che terminerà il suo mandato da sindaco infatti Ricci è andato apposta a fare il mental coach una sera venuta da voi giusto alla cena da Pasqualon che vi ha detto? di tirare fuori la tigna che non c'è un piano B che Pesaro deve restare in Serie A è stata una bella chiacchierata sicuramente ha fatto piacere sapere che comunque anche il sindaco della città vuole che ovviamente la vuole rimanga in Serie A ma al di là di questo penso che qualsiasi persona incontri per strada qual è il desiderio è quello che Pesaro resta in Serie A perché comunque è una città che vive di basket è un palazzetto stupendo ripeto terzo pubblico d'Italia è una città che veramente vive di basket e quindi sta a noi ecco sta a noi per quanto riguarda la società sabato ci sarà una riunione credo all'Hotel Flaminio dove i consorziati parleranno per la prima volta della successione per il ruolo di presidente visto che Ario comunque ha detto che a fine stagione lascerà quel ruolo non so se lascerà la società sicuramente però bisognerà trovare un'altra persona che farà il presidente ci saranno dei cambiamenti all'interno del consorzio che io sappia verrà cambiato lo statuto per velocizzare le decisioni potrebbero esserci due vicepresidenti ad aiutare il presidente per fare un gruppo ristretto che decida più in fretta come altrimenti quest'anno per esempio non so ricordo l'infortunio di Banford si è perso tanto tempo poi alla fine quando lui era pronto a rientrare il sostituto non era ancora arrivato quindi ecco queste cose non devono più succedere per cui so che Franco Arceci sta premendo per cercare di cambiare un pochettino il volto del consorzio far diventare questo organo che comunque alla fine detiene le quote quindi è virtualmente ma anche realmente il vero proprietario della società possa camminare un po' più speditamente per non avere più lungaggini che a volte ci hanno portato tanti problemi in questi anni quindi speriamo bene in bocca al lupo anche a loro che decidano bene certo non credo che uscirà già il nome del presidente sabato però si comincerà a parlare per vedere se questo presidente può uscire dal gruppo dei consorziati oppure dovrà essere una persona che viene magari da fuori come la vedi Luciano la futuro societario non ci sono molte alternative oramai la realtà è quella dei consorzi vedo che tutte le città vivono di questo o sei Armani o sei Zanetti o sei poche cose non ci sono alternative non ci sono alternative e devo dire che per fortuna che ci sono i consorzi perché se no non dimentico quando abbiamo rischiato di sparire bisogna essere onesti e ricordare diciamoci la verità noi abbiamo vissuto per tanti anni sopra le nostre possibilità vivevamo a caviare champagne quando invece la nostra realtà era la piadina senza Scavorini Scavorini è stato il problema è la soluzione la soluzione è il problema quando hanno lasciato l'oro non è facile io credo che bisogna ringraziare anche quelli che mettono i soldi anche poco di più e continuano a lavorare per il bene di questa società del resto il consorzio è proprietario io sento molti che dicono ah mandateli via devono sparire dopo con i soldi tuoi io vinco la coppa dei campioni con i miei non partecipo neanche alla gara di briscola certo certo ma poi ci sono consorzi anche a Varese a Treviso c'è modo di farli rendere anche bene adesso vedremo ci sono altre soluzioni o hai il mecenate certo Andrea ha giocato all'Olimpia sa bene che cosa vuol dire giocare con la scritta Armani quelli che giocano a Bologna sanno bene che cosa vuol dire giocare con la scritta Segafredo ma tante altre realtà non hanno queste stesse opportunità magari ma credi che a Pesaro ci sia un Armani uno Zanetti pronto ad entrare io non credo no speriamo solo speriamo solo però che a qualcuno vedendo il palazzo così pieno venga la voglia di dire posso investire su un posto che mi porta 7.000 8.000 persone per una squadra che è penultima che cosa potrebbe fare se questa squadra lottasse non dico per lo scudetto ma almeno per stare stabilmente nella zona playoff e qualcuno magari anche potrebbe anche non essere di Pesaro insomma perché è chiaro che un altro scavolini non c'è in questo momento se non sarebbe uscito fuori in questi anni da quanti anni è che non c'è più Walter che non c'è più la famiglia parecchi dal 2012 quando è stata la semifinale con Milano poi dopo l'anno dopo la show io spero che il consorzio vada avanti prosegua con il pubblico presente con il sostegno di tutti della città però questa è la nostra realtà bisogna essere onesti una città di 100.000 abitanti che sta facendo sempre tante belle cose ma e questa è la sua realtà non dimentichiamo che quando non c'era Scavolini prima di Scavolini e si è retrocessi anche con Scavolini un paio di volte con la maglia Scavolini facciamo le corna 98 facciamo le corna due volte sì l'altro è stato il fallimento quindi bisogna accettare questa realtà anzi essere orgogliosi di poter competere con questa realtà di giocarci la domenica contro una Virtus che ha sproporzionata rispetto a noi eppure quando scendi in campo sono convinto che domenica loro faranno di tutto per vincere sono andati anche due anni fa vicinissimi alla vittoria ricordiamo bene che cosa a quanto siamo stati vicini a questa a questi due punti a quei due punti quindi perché no domenica se seguono i compagni quello che dice Andrea ci si può si gioca la Virtus non è mica imbattibile poi se si stancano domani sera con il Real Madrid ci dispiace per loro ma soprattutto perché Havana ha una trasferta abbastanza tosta Caunas martedì quindi ecco in questo noi siamo diciamo il cuscinetto nel mezzo tra queste due partite di Eurolega vediamo che insomma io credo che per loro non dico che non ci tengano a vincere Pesaro ci mancherebbe pure ci saranno seguiti da almeno 300 tifosi di tifoseria organizzata poi ce ne saranno tanti sparsi mandiamo un messaggio da qui a Luca diciamo lascia le fuori 5 6 e pensa alle partite vediamo il turnover quale sarà sicuro qualcuno dovrà farne riposare vediamo chi sarà io vi faccio riposare due minuti e apriamo un attimo l'album dei ricordi con un giocatore che tra l'altro ha vestito tutte e due le maglie grazie a Claudio Iacchini con i suoi filmati di WL Pesaro History andiamo a parlare di Zem Frederick che è un giocatore guardate l'elevazione questa è una foto scattata a Roma quando Pesaro sbancò ai playoff nato a St. Matthews nello stato della Carolina del Sud il 17 agosto del 59 Zem Frederick è un ex sia della Virtus dove giocò dall'81 all'83 che della WL della quale vestì la casacca dall'84 all'87 prodotto del College di South Carolina università con la quale nella stagione 80-81 conquistò il titolo di miglior realizzatore della NCAA con una media partita di 28,9 punti venne poi scelto a draft dai Los Angeles Lakers con il numero 51 ma non gioco mai nella NBA quell'estate lo ingaggiò infatti la Sinudine e anche in Italia si segnalò come un grande scorer vincendo subito la classifica dei cannonieri con 988 punti realizzati terminata l'esperienza bolognese a Proda Pesaro dove diventa il beniamino dei tifosi vincendo la prima Coppa Italia della storia della VL nel 1985 contro la Chao Creme Varese e trascinando la Scavolini alla seconda finale scudetto sempre nell'84-85 partendo dall'ottavo posto con Giancarlo Sacco in panchina nella seconda stagione in bianco rosso viaggia addirittura una media di 31,1 punti a partita nel 2002 è stato inserito nella Hall of Fame della sua università e oggi ricopre il ruolo di allenatore alla High School della Cologne County Zem Fredrick giocatore che Luciano ha amato moltissimo suo figlio è nato a Pesaro Zemmino lo chiamavano che giocatore sì fantastico sai che due secondi amichevole a Trieste tra la Stefanel e Caserta con Michael Jordan in campo con Trieste allenato da Santi Pugliesi fine partita gli facciamo le interviste posso farti una domanda su un giocatore americano che gioca in Italia sì Zem Fredrick grande giocatore grande realizzatore Michael Jordan a Trieste nello sgabuzzino di Trieste ti ricordi il parasport di Trieste Zem era veramente un giocatore fantastico e poi tre anni con la maglia della VL cioè non sono molti gli americani che hanno giocato tre stagioni consecutive quindi Andrea ovviamente non te lo puoi ricordare perché non era neanche nato però abbiamo avuto degli stranieri che sono rimasti però se chiedi a Franco lo sa lo sa dire gambe pazzesche tir è vero la partita pazzesca quella di Roma e quella di Caserta contro Oscar Oscar segnava e replicava Zenu segnava Oscar e replicava Zenu cioè quando uscimo dal Palazzo dello Sport eravamo in pullman eravamo soltanto io e Gigi Diotremi scortati dalla polizia con i finestrini oscurati con le pietre che arrivavano sul pullman loro pensano di vincere eravamo senza Mike è vero squalificato per la famosa Rissa Rissa e Zem la vinse giocarono tutti bene però Zem immarcabile è vero che ricordi allora Giovanni andiamo a dare il risultato del contest la soluzione che vede Paride vincere due biglietti contro la Virtus gli assist erano 1773 e chiaramente oggi ne ha molti di più e sta continuando da dominare la speciale classifica dei passaggi smarcati in Serie A come te lo ricordi quella giornata Andrea è stata bella agrodolce perché avete perso 20 punti in casa fischi però lì per lì è stato molto bello molto bello perché perché penso che sia uno di quei record particolari nel senso che tanti giocatori amano la palla canestro per il canestro per fare canestro ci sono miliardi di realizzatori nati e tutto a me è sempre piaciuto fare il passaggio smarcante mettere il ritmo il tuo compagno è sempre stata una dote che avevo fin da bambino e riuscire a superare un playmaker di quella caratura come Gianmarco ed essere lassù al primo posto sai è motivo di orgoglio è motivo di ti fai ripensare a tutti i sacrifici che hai fatto nella tua nella tua adolescenza poi nella tua carriera come dicevo prima ci sono anni migliori anni peggiori anni dove hai vinto anni dove hai perso ho vinto finale scudetto ho perso i finali scudetto ho fatto stagioni super ho fatto stagioni brutte però alla fine quando vai a fare il conto e vedi che che tutti i tuoi passaggi ti hanno portato ad essere il primo nella storia della Lega Basket mi fa felice ecco mi fa felice perché perché sono sempre stato un giocatore che chiama mettere il ritmo tutti e quindi al di là di questo mi fa molto piacere nel riconoscimento della tua identità tecnica sì assolutamente sì penso che il playmaker oggi giustamente tu hai detto benissimo se ne sono veramente pochi 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 però giocare ancora contro o vederli in tv dei playmaker veri è bello è bello perché penso che controllare il ritmo sapere a chi passarla quando passarla passarla al momento giusto sono delle qualità che uno deve avere e per averle come ho detto prima e torniamo al discorso principale devi conoscere benissimo i tuoi compagni senti forse c'è una cosa che non sai ma te ne mancano sei per arrivare a quota 2000 lo sapevi? no però era una quota che volevo raggiungere onestamente quando avevo superato Pozzecco quale miglior partita per smazzare sei assist baratto anche tre assist per una vittoria sono onesto anche uno anche uno va bene però se capitasse sarebbe bello sarebbe un bel traguardo sarebbe un bel traguardo bene allora sono il 22.26 ne abbiamo già sforato di sei minuti Giovanni solo se c'è una domanda ancora importante vai pure vai pure oppure se no chiudiamo perché giustamente anche Andrea deve andare a riposare io ringrazio tantissimo Luciano e adesso ti lascio un minuto per dirci cos'è quel libro che hai portato prima di salutarci grazie Betta è il libro che ho scritto sui miei cammini di Santiago 5 volte a Santiago di Composterio un libro puoi girarlo raccontato dai piedi sono i piedi che raccontano i cammini è la prefazione di Alex Wazzer che è mio caro amico e ho raccontato questa passione e nel libro parlo anche di basket perché un giorno stavo per bloccarmi mi ero bloccato non riuscivo più a camminare ho mal di schiena al gluteo in verità e mi sono salvato presentandomi a un fisioterapista mi ha detto non abbiamo posto dico se ti dico di chi sono amico tu mi visiti e chi sei amico Sergio Escariolo mi ha detto alla spagnola aveva appena vinto il titolo mondiale torna stasera alle 6 gli dico anche a mezzanotte mi ha fatto un curato un'ora di seduta intensa e sono riuscito ad arrivare a Santiago di Compostela grazie alla palla canestro bellissimo Luciano scrive adesso abitualmente questo non è il primo libro che scrive dopo che ha diciamo lasciato il quotidiano il lavoro nei quotidiani è stata una grande voce della radio adesso sta lavorando un progetto che è legato alla sua Sardegna magari non lo svegliamo anche alle Marche perché anche la provincia di Pesaro è terra di miniere io sono andato a Carbonia ma anche nelle Marche c'erano miniere c'erano molti minatori che purtroppo senza lavoro vennero da Perticara e da Cabernardi a lavorare lavorano allo Zolfo qui la miniere di Zolfo arrivano a lavorare anche il carbone purtroppo molti non sono neanche più tornati qui quindi è un libro che è legato strettamente diciamo alla tua terra di origine alla Sardegna bellissima Sardegna la mia vita mio padre è morto a 51 anni di Siricosi quindi puoi immaginare prima o poi dovevi arrivare a questo libro è il libro il sogno della mia vita speriamo di riuscirci ti facciamo il migliore in bocca al lupo per finirlo e siamo curiosi di leggerlo viva il lupo e Andrea io ti ringrazio molto sei stato molto aperto di cuore verso anche tutta la gente che ha bisogno di sentire qualcuno che gli parla dell'identità di Pesaro non poteva esserci persona migliore speriamo di vivere una bella domenica assolutamente grazie a tutti e ci vediamo giovedì prossimo hai visto quante novità al Conade di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conade di Montecchio da più di un secolo Marco ti aspettano presso lo showroom a Riosalso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio oh, I keep dancing with mine andiamo Grazie a tutti